In collaborazione con Gruppo Kramst Centro Cinofilo Ipioppi Bonto Ambasciatori del gusto Gruppo Kramst Nonostante una fitta nebbia si terrà oggi la manifestazione degli studenti orvietani che era stata sospesa la settimana scorsa a causa dell'alluvione. Passeranno per le strade della città per arrivare poi a Sant'Andrea dove spiegheranno i motivi di questa loro protesta. Siamo qui oggi per manifestare, per protestare contro l'Italia alla scuola che vanno avanti ormai da anni e in particolare contro il DDL Stabilità che è stato approvato l'altro giorno e l'ex legge aprea approvata come legge 953. Poi a Sant'Andrea ci sarà l'assemblea pubblica dove spiegheremo i motivi ma abbiamo creato anche una sorta di collettivo studentesco a Orvieto che non c'era, mancava da alcuni anni e cerchiamo di costruire un percorso per far sì che questo non sia un evento singolo ma per farci sentire in modo più ampio diciamo. Sì 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 Si nasce, ma l'acqua che si muore, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. C'è un liceo classico, artistico, ragionerina, cerametri e scientifico, si impegna a cercare di fare fare i primi, i primi, i primi e la scuola, fa per il modo stesso, viene calpettato dai vari dirigenti. Allora, siamo partiti dai giardini dell'Albornoz e da lì abbiamo fatto questo colteo con tutti i giovani che manifestano contro questo governo che ci taglia da tutte le parti. La nostra speranza è quella di insieme cambiare le cose e niente, siamo qui, moltissimi giovani da tutte le scuole orvietanee, anche da fuori sono venuti e cerchiamo di fare il meglio per questo paese e per il nostro futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.